Si parte da un aumento di 34 euro per un consumo di 90 metri cubi per passare a ben 222 euro se il consumo sale a 250 metri quadrati. Stiamo parlando degli aumenti tariffari che ricadranno sul servizio idrico e si materializzeranno nelle bollette che arriveranno a casa degli Aretini da marzo in poi, ma con effetto retroattivo dal 1 gennaio 2016. Ad accendere i riflettori sull'aumento delle tariffe che potrebbero sfiorare anche il 23% era stato il Comitato Acqua Pubblica. Dura anche la presa di posizione di Massimiliano Dindalini, segretario provinciale del Partito Democratico. Credo che la delibera dell'AIT presa alla fine del 2015 in un qualche modo modifica l'assetto tariffario attuale dovuta anche a una nuova legislazione dell'AEG. Quello che vogliamo denunciare è che non si tiene conto ad esempio della progressività legata alla dimensione del nucleo familiare e di conseguenza accadrà che famiglie più numerose che di conseguenza consumano più acqua si troveranno ad avere degli aumenti, viceversa delle famiglie ad esempio di persone che stanno da sole, che magari consumano meno e a prescindere dalla disponibilità economica si troveranno a riduzione in tariffa. Credo che questo sistema ha dei notevoli punti di difficoltà e abbiamo chiesto a Light di rivedere, e soprassedere un attimo sull'applicazione dell'attuale delibera e rivedere appunto utilizzando criteri che siano più equi. Ecco da marzo ci saranno però queste ricadute, degli aumenti che potrebbero anche sfiorare nel 23%? Sì, per alcune fasce di consumo sì, appunto per questo che abbiamo chiesto ad attivarsi ai sindaci per sospendere la delibera dell'AIT e tornarci sopra in modo da calmirare gli aumenti e far sì che siano progressivi legati eventualmente anche alla disponibilità alla consistenza del nucleo familiare.